La vita di Bishara era appesa a un filo. Aveva la diarrea da più di un mese. Era debolissima. Il suo esile corpo non riusciva a rispondere alle cure. Purtroppo Bishara non è la sola. Tanti bambini come lei affrontano questa terribile realtà e non conoscono nulla al di là del dolore. Nessun bambino dovrebbe soffrire così. Pensi che questa sia un'altra bambina? Invece no. Questa è Bishara, dopo che qualcuno come te ha deciso di salvarle la vita. Troppi bambini stanno ancora soffrendo. Chiama ora Save the Children all'800-98-8809 e dona 9 euro al mese. Hanno davvero bisogno del tuo aiuto. La vita di tanti bambini come Bishara è appesa a un filo. Bastano appena 9 euro al mese per garantire il cibo e il latte terapeutico di cui hanno bisogno. Chiama ora Save the Children all'800-98-8809 e aiutaci a salvare tanti bambini come Bishara. Grazie.